Ciao, sono Simone, ho 24 anni e sono il titolare della ditta 31 impianti. Ho scelto ENAIP per il corso di elettricista perché era già il mestiere di mio padre ed è un mestiere che mi ha sempre interessato. La cosa che mi è piaciuta di più del corso è stata la parte pratica con i vari laboratori. Dopo lo stage previsto dal mio corso e varie esperienze lavorative ho deciso di aprire la mia ditta. La mia ditta si occupa di impianti elettrici in generale ma soprattutto di cablaggio strutturato, impianti di allarme e videosorveglianza. Il mio sogno è quello di ingrandire la mia azienda.